Buongiorno, benvenuti a questa diretta per la Zuppa di Polo del 13 aprile del 2019. Vediamo subito cosa c'è sui giornali principali italiani, quali sono le notizie fondamentali. Ovviamente c'è molta roba sulla Libia, perché Repubblica, e su questo bisogna darle atto, è quella che ha lanciato tutte le indiscrizioni che valevano gli incontri segreti tra Aftar e i francesi. Aftar è il generale che sta cercando di occupare Tripoli, che è invece comandata dal generale Serrai, dal presidente Serrai, che è appoggiato dalle Nazioni Unite, e compresi Italia e America. Mentre invece Serrai, che sta attaccando, è appoggiato da francesi, emirati arabi, pare a Arabia Saudita, Russia, e una sorta di coalizione molto segreta che non racconta esattamente le sue mosse. Beh, oggi l'unica cosa che vale la pena leggere sono dieci righe scritte da Italia Oggi, dieci righe non di più, ve le consiglio, perché Italia Oggi cita la Reuters, un'agenzia di stampa internazionale, che a sua volta racconta, la stessa Reuters, che ieri avrebbero avuto un accordo tutta l'Europa per chiedere ad Aftar di evitare un cessato in fuoco, di evitare di continuare a far casino, questo dice, tutta l'Europa sarebbe stata d'accordo su questo, e però Aftar, la Francia, non firma questo comunicato congiunto. È il senso di quello che sta avvenendo nelle ultime ore, nonostante le scaramucce tra 30 ministri della difesa, che oggi rilascia interviste al Corriere e a Messaggero, Conte che parla oggi con il fatto, Salvini che attacca la Francia, cioè il senso profondo di quello che sta avvenendo è che l'Europa è talmente divisa, e la Francia come sempre vuol fare i cavoli suoi, come lo fece con Gheddafi, che sta spingendo, buttando, gettando benzina sul fuoco libico. Chiaro? Francia, punto, quello che conta è questo, poi dopo tu puoi avercela o non avercela, ma è la Francia che sta facendo questo. Buongiorno a Luca, che vedo che si collega ora su Facebook, buongiorno a Anna, Steve, David, Iside, 54 che invece sono collegati ora con la diretta che sto facendo su Instagram. Quindi la sostanza è questa, poi se volete appassionarvi alle grandi questioni italiane, come si dibatte tra la 30 e tra Salvini la vicenda, potete leggere l'apertura del Corriere della Sera, interesse zero, non perdete tempo, sono le solite minchiate che raccontano i giornali, ma non perché raccontano minchiate, ma perché sono costretti a un ministro della difesa, appunto, a dire qualche cosa, no? Anch'io la intervisterei se dovessi parlare della Libia, però in realtà dicono poco o niente. Oggi mi sembra che sia il foglio che si divette a prenderla in giro, perché la 30 sta litigando, sta cercando di sedare la lite tra arenautica e marina, sapete un po' su che cosa, a chi dare gli F35, sono queste storie all'italiana straordinarie. Quindi l'unica cosa che conta sono queste dieci righe di Italia Oggi e varie interviste che vedete sui giornali di quelli che contano. L'altra cosa interessante di giornata è la politica, come sempre molto interessante Verderami, buongiorno Michele, perché Verderami ci dice come, più che un retrosceno, ci racconta una roba che non mi ricordavo, e cioè anche Renzi, ve lo ricordate, cinque anni fa si diceva, non c'è alternativa a Renzi, chi altro potrà mai, Renzi sembrava che avesse sbaragliato tutti, opposizioni interne, esterne, Forza Italia, aveva vinto su tutto il fronte, beh, insomma, diciamo che poi si è visto che le opposizioni e soprattutto alternative a Renzi ce n'erano come, anche troppo, ti devi riposare, dice caro Nicolo, Mari Kelmas, non so perché, forse sono un po' stanco a San Natino, non mi sembra, beh, insomma, alternative a Renzi sembrava non ce ne fossero, e dice Verderami, così come all'epoca sembrava che non ci fossero alternative a Renzi, state attenti che alternative anche a questi che sembrano indispensabili, giallo-verdi, vedrete che ci saranno. Cerasa oggi sul foglio dice, attenzione, perché il centrodestra sta sbagliando tutto, perché il truce, cioè Salvini, come lo chiamano quelli del foglio, non vuole unificare il centrodestra, vuole andare da solo, e quindi è inutile che fate finta di stare un po' sì, un po' no con Salvini, lì vi ha fottuto. Nel frattempo il centrodestra, fatetelo dire con grande franchezza, non si riesce bene a capire che cosa stia facendo, leggo, io non la conosco, buongiorno Paolo, leggo che una delle sue rappresentanti, che è stata in Parlamento, che è la Gardini, se ne va via, perché litiga con Tajani, leggo le settimane scorse che Toti se ne va via, leggo notizie per le quali qualcuno di voi mi ha addirittura scritto, gli occhiali sono storti, ecco, li mettiamo di diritti, qualcuno di voi mi ha scritto anche su questi siti che i candidati di Forza Italia sono imbarazzati, stiamo a vedere, ma il titolo oggi più divertente è il titolo oggi del giornale, perché il giornale ha pizzicato Confindustria, l'avevo già fatto un po' io di giorni fa io, ma la Confindustria ieri ha detto una cosa che veramente non ci si può credere, cioè che Di Maio, uno di noi, no, tu puoi dire tutto di Di Maio, ma uno di noi, la Confindustria come cazzarola fa a dirlo? No, ma io non lo riesco a capire, ma comunque sia, oggi farà un gran casino il titolo all'interno del piccolo mondo della Confindustria, il titolo del giornale di Sallustri, perché il titolo del giornale di Sallustri riprende i giovani industriali per quel che contano di Confindustria e il suo presidente che si chiama Alessio Rossi con questo titolo, Di Maio non è uno di noi, cioè sostanzialmente i giovani smentirebbero i grandi, conoscendo un po' il sistema Confindustria e i giovani che si cagano sotto, come si suol dire, in maniera poco elegante anche della loro ombra, è difficile che si possa, soprattutto dei loro papà che sono i grandi della Confindustria, che gli pongono i dirigenti, che gli fanno sentire grandi, di cui loro sono vicepresidenti, uno scontro tra giovani e grandi di questa portata non l'ho mai vista, se così fosse sarebbe comunque molto divertente e soprattutto interessante da analizzare per quel piccolo mondo che è dell'imprenditoria. Ieri ero al Salone del Mobile qui a Milano e devo dire che ho parlato con il capo della Federlegno che mi ha detto questo decreto di dignità per noi è un disastro, è un disastro, peraltro non è un gran segreto perché l'ha detto alla Corriere Economia lunedì scorso, cioè solo pochi giorni fa. Ma sulla storia di Assange, ragazzi, il pezzo più bello oggi lo ha scritto anche ogni tanto Avvenire, come gli orologi rotti ogni tanto segnano l'ora giusta, anche oggi sull'Avvenire Parsi, che di fatti è uno dei più bravi, secondo me di quella, è un professore, un uomo molto intelligente, gli dice di Assange, di cui invece oggi ci sono una specie di peana incredibile, l'uomo contro i potenti, che dice il fatto, dice quella, come si chiama, quella murgia europarlamentare, come si chiama, la Spinelli, un'altra che non ha mai lavorato in vita sua. Beh, insomma, Parsi però sull'Avvenire dice, secondo me, la cosa più bella di tutte, e cioè un nerd della trasparenza, sentite bene, un nerd della trasparenza, travolto dal suo stesso successo straordinario. Altre notizie di giornata riguardano, secondo me, lo sguppone del messaggero, ci apre tutta pagina, all'Italia si rompe e salta la cordata che doveva salvare l'Italia, che era fatta dalla ferrovia dello Stato, ma lì chi è che viene meno? Siccome gli americani non sono entrati, Lufthansa non è entrata, Isiget non è entrata, è entrata Delta con una piccola quota, doveva entrare Atlantia, la stessa che il governo prende a schiaffettoni per il ponte Morandi. Beh, insomma, Atlantia ha detto no, non ci sto, anche perché ragazzi, parliamoci chiaro, per guidare un'azienda come l'Italia non ci metti un ferroviere, non ci metti un finanziere, devi metterci qualcuno che si occupi all'Italia, o non è che metti insieme le ferrovie, a questa genialata e insieme ad Alitalia ha risolto i problemi, le ha aggravati semmai, Roma-Milano come facciamo? Gli orari? Dov'è il lab? Roma-Milano? È una roba allucinante, cioè mettere un ferroviere a guida di un Alitalia che tutto ha, tranne che bisogno dei voli domestici, ma degli intercontinentali è una roba che anche un bambino piccolo 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 capisce che è una stronzata, eppure la volevano fare, salta pare questa cordata, ritornerebbe forse in pista Lufthansa, che vuol dire 5.000 persone licenziate ad Italia, secondo voi se lo possono permettere questi qui del governo, ma come tutti quelli del governo, da Berlusconi in giù, se lo possono permettere di licenziare 5.000 persone in Roma? Ve lo dico subito, no! Sull'Umbria e PD e corruzione anno ne parlo tra pochissimo, quindi Alitalia è ancora nel marasma, con 2 milioni di euro che brucia ogni giorno. Il Ponte Morandi, a proposito di Atlantia, non ne parla nessuno, grande salute da Confagricoltura, Luca, un grande abbraccio, Ponte Morandi, oggi si è capito sul sole, fa bene, buono il pezzo del sole, che dice un po' come sui terremotati, che sono attenzionati, in brutto modo di parlare in italiano, cioè c'è attenzione ai loro confronti quando avvengono i disastri e poi ce li si dimentica, così anche per il Ponte Morandi, perché sicuro che a maggio o aprile del 2020 non sarà pronto, non l'hanno ancora distrutto. Arresti a sinistra, titolo della Repubblica, insomma questo è un bel casino, perché hanno arrestato, ha messo ai domiciliari il segretario del Partito Democratico in Umbria, l'assessore, si chiama lì alla salute e non alla sanità, e indagato anche il Presidente della Regione su, come si chiama, raccomandazione per i concorsi. Nei prossimi giorni usciranno tutte le intercettazioni, si capiranno tutte queste minchiate, io ve lo dico, non so più come fare a dirlo, ragazzi abbiamo troppo Stato, troppo Stato, la corruzione nasce da troppo Stato, non ci vogliono più poliziotti per la corruzione, ci vogliono più poliziotti per la sicurezza fisica, meno poliziotti per la corruzione, meno presenza dello Stato, meno corruzione, qua sempre e comunque si vuole fare uno Stato talmente onniprosente, poi si fanno le regole perché non ci sia la corruzione, perché non ci siano gli sprechi, la lotta vera alla corruzione e agli sprechi è ridurre il peso dello Stato, quello che fece a botte con la Mussolini non mi ricordo chi sia. Più onesti non serve a niente, non serve a niente Anna, sono tutti potenzialmente disonesti, padre nostro non ci indurre in tentazione, sapete come fa a non indurci in tentazione? Evitando questa macchina e questa bestia statale che si occupa di tutto, tutto, detto questo è un bel problema per il PD e non solo per il PD, perché il partito degli onesti in questo paese sembra proprio che non ci sia. Sul sito nicolaporro.it tante altre informazioni di giornata e un video davvero interessante, poi se volete li ritrovate, il mio pensiero debole debole, vabbè lasciamo perdere sulla questione morgia. Ciao agli amici di Facebook che mi seguono con la zuppa di poro da 5 anni e mezzo e ciao agli amici di Instagram che sono un po' meno numerosi ma sono altrettanto attivi che vedo che da qualche giorno iniziano a seguirmi in diretta. Ciao! Chiudiamo qua.